Un valore aggiunto? Direi che è un valore aggiunto per il centro sportivo perché è un orgoglio venire una cittadina come Calini che rappresenta la Sicilia e noi penso che ci porterà molto poco. Presidente, quindi questo centro sportivo le ha detto si farà entro il 2014, in teoria potrebbe essere l'anno del ritorno in Serie A? Nel nostro programma è quello, è facile fare il centro sportivo che torna in Serie A ma noi sicuramente abbiamo come obiettivo di ritornarci e ci ritorneremo. Questo centro sportivo assomiglierà un po' a Torre del Grifo o sarà una struttura del tutto? No, no, sarà una struttura solo per lo sport e per il calcio. Presidente, la paura principale durante la scorsa stagione è quella che Zamparini si stancasse. Oggi c'è un ulteriore conferma, oltre alla squadra di Viro, al mercato che Zamparini invece raddoppia, non lascia. C'era qualcuno che tentava di farmi stancare per pregarmi un balermo, ma non c'è visto. Per quanto riguarda lo stadio invece che novità ci sono? Sì, ma parleremo con l'anno anche di quello, Zamparini, per quanto riguarda il centro progetto anche per il servizio dello stadio e vorremmo partire anche con quello, dipende dalla burocrazia. Avete preso Stefanovic ufficiale, terzi arriverà, il mercato del Palermo è quasi chiuso o ancora si potrebbe riservare qualche cosa? No, è ancora aperto, ci manca qualcuno ancora, ci sono centrocampi, però vediamo. Hernández e Sorrentino, voi li avete dichiarati incedibili qualche giorno fa. Adesso forse la situazione è cambiata. Sono ancora incedibili, però io sono incedibili, se mi offrono 100 milioni perché parla via, secondo me anche io. Tra Ardemani e Calaiocchi è che ha più possibilità di arrivare in caso della partenza di Hernández. Io penso che ha possibilità di Hernández di rimanere. Per tutto sarà una vincente del Palermo, per tutto sarà una vincente del Palermo, sarà una vincente del Palermo? L'abbiamo scelto per quello, perché è una persona che non ha bisogno di presentazioni, è una persona che lavorerà come nuova, e noi abbiamo dato un programma di più anni per cercare di portare il Palermo dove stanno, sempre nelle coppie europee. Presidente invece, per Indici c'è la Fiorentia, si sono fatti dei passi avanti? Sì, sì, però è legato un po' alla cessione di Ovetich questo mercato, per cui stanno lavorando. C'è Perinetti, si era schietano lui che era tutto il giorno per cui. Grazie.